ischio immagino questo era l'orario ok come trascorse le vacanze ma non è una vacanza sto per lavoro stiamo preparando il film a ischia è una commedia scritta da me quindi un sacco di attori belli però non diciamo niente così creiamo curiosità una bella commedia per il cinema invece vacanze le trascorse anche tu vacanze vacanze sì in montagna appena rientrato dalle vacanze si sono appena entrati da ischia sono stati come al solito un mesetto lì insomma passiamo sempre le vacanze lì in famiglia ormai da tre generazioni quindi solito gruppo di amici e famiglia mesi di vacanze non è poco ora primo settembre nuovi propositi quali sono beh appena cambiato lavoro quindi sicuramente iniziare bene il nuovo lavoro sono di napoli proprio a milano quindi adesso tra poco rientrerò su e lasciare di nuovo la famiglia che è sempre insomma un po tosto anche sono tanti anni che sono fuori e quindi ricominciare bene il nuovo lavoro e ricominciare un po la routine che le vacanze sono belle però dopo un po ci vuole anche la routine di tutti i giorni insomma altrimenti la vita diventa monotona anche in vacanze una settimana di prima dove era trascorsa fuori io disco allora raccontami le tue vacanze di quest'anno allora io sono stata un po in puglia ho fatto un viaggio un po più lungo in turchia di due settimane e ora ultimo bagno a capri allora siamo state a ischia nello specifico ischia porto e non abbiamo passato qualche giorno lì in tranquillità abbiamo deciso di farci una vacanza di mare proprio tranquille infatti c'era poca gente è stata molto molto tranquilla quindi un'unica settimana per quest'estate si esatto allora appena rientrato dalle vacanze da capri abbiamo trovato molto un po caotica troppo traffico è cambiato perché è difficile districarsi tra le macchine parti taxi e le altre cose però è molto molto traffico rispetto agli altri anni ma è sempre magnifica è sempre incantevole l'affluenza c'era anche molta affluenza l'ultima settimana di agosto diciamo c'è un maggio di affluenza di sette giorni ma già avevamo fatto un'altra settimana sentro che entro il 4 lavoro quindi l'ultimo bagno è stato un po per recuperare prendere tutte le energie per il nuovo anno c'è qualcosa di nuovo che vorrà iniziare a breve al di là del lavoro beh continuare quello che sto facendo forse appunto un po più di sport buoni propositi altri nuovi viaggi questo pomerà allora si spera che vada tutto bene lavorativamente parlando dallo studio buoni propositi speriamo che vada tutto bene diciamo è come settembre come gennaio inizia di nuovo tutto al di là del lavoro c'è qualcosa che può iniziare dicevi tu scusa palestra speriamo di fare i soldi per fare per fare un'altra vacanza per i giovani io mi preoccupo non per noi